Telespettatori di Video33 ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione telegiornale che apriamo come avete sentito dai titoli con la viabilità confermate le previsioni sul traffico a metà mattina con dei rallentamenti per decine di chilometri sulla 22 in entrambe le direzioni. Vediamo il servizio. Altro sabato di passione per la viabilità in tutta Italia come del resto era ampiamente previsto già di prima mattina sul nuovo passante di Mestre già teatro di code fino a 30 chilometri sabato scorso si registravano incolonamenti per 10 chilometri e non va molto meglio sulla 22 di cui proprio ieri è stato approvato il progetto di realizzazione della terza corsia da Verona Nord a Modena rallentamenti e code anche qui già dalle prime ore della giornata che si sono andate intensificando nel corso della mattinata. Verso mezzogiorno le situazioni peggiori si registravano in corsia Nord nel tratto tra l'innesto con A4 e Trento centro mentre dall'altra parte il peggio era tra chiusa e Trento ma anche l'allacciamento con l'A14 a Modena presentava situazioni di code. Secondo la polizia stradale impegnata in forze sia sul campo che nelle sedi operative la situazione è destinata a peggiorare col passare delle ore e solo verso sera si dovrebbe tornare alla normalità. Sull'intera rete nazionale è in vigore il devieto di transito per camion con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tutti i sabati e le domeniche nel mese di agosto e sempre dalle 7 alle 24 mentre venerdì 14 agosto il devieto di transito è dalle 16 alle 24. E il sabato da bollino nero complice anche il tempo tendente al piovoso ha comportato anche l'assalto dei turisti nei principali centri della provincia. A Bolzano anche per via del mercato la situazione è peggiore con i parcheggi del centro esauriti a metà mattina e la polizia municipale è costretta a transennare ponte virgolo verso le 11 deviando i ritardatari verso i parcheggi a Bolzano Sud.